doppio strike si si se la faccio per adesso a me deve toccare sempre la luce che non c'è ormai ora l'ha dove sono, li faccio l'altro giro Fabola che lo sta facendo? Fabola è qui che arriva non gli ho detto niente perché era partito anche la seconda a loro? no a noi non ha prezzo eh e li 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 bella questo è il 30 dritto giusto? no c'era doppio qui? eccolo era il doppio non ti preoccupare guarda qui se compro una me la via due volte si troppo quasi dentro ma ho detto che non sto cercando qui su un canale per che cosa ho sentito che non tengo la canna nelle mani se ci sp rasafilo no no questa qui non la tocca la canna è un vischio mio ma Non lo sento. Grazie, il canone dentro. Mi dà fastidio, Willy? No, assolutamente. Vedo, grazie. È un bel pesce, ragazzi, è un bel pesce, eh. Dopo il tempo bisogna prendere il terminale e vai a tagliare il filo, eh. Cerca di tenere però. Lo slamiamo. Bene. Grazie. Lo fai! Lo sapiamo che ho avuto il problema. Bravissimo, è Lele. Bravissimo. è bello si bel pesce bravi bravi bravissimi e uno bravi ah e voglio dire che uno l'abbia liberato no ho visto che se la cava benissimo arriva piccolo stituto bravo va bene eh? va bene va bene la c'è che ti metta il tonno via 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 guarda che tu fai i giri guarda che tu fai i giri guarda guarda che tu fai i giri guarda ti fai male tu fai il pesce no prese anche questo bravi bravo 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 la gamba bravo 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 bravissimi travi ok ok ok